Sulla gravità della vicenda non ho nulla da aggiungere a quello che ho detto da 11 mesi a questa parte. So che è una delle vicende che giustamente ha colpito di più la nostra opinione pubblica. Allora, ho cercato in questi mesi di essere sempre il più possibile sul pezzo, come si dice, e in contatto continuo con la famiglia. Che voglio anche da qui salutare perché abbiamo sempre delle famiglie esemplari in queste storie italiane. Vabbè, insomma, lo sapete. Ci siamo sentiti l'ultima volta il giorno di Natale. Devo dire che la collaborazione tra la Procura di Roma e la Procura Generale del Cairo ha prodotto alcuni risultati. Ciò che è emerso sui giornali ieri o oggi, se non ho capito male, in un'edizione egiziana di Huffington, in fondo era stato in qualche modo anticipato dal Procuratore Generale del Cairo nei suoi recenti incontri con la Procura di Roma. E cioè la possibile responsabilità di questo capo del sindacato degli ambulanti egiziano. Lo dico per dire che c'è una strada che il Governo ha cercato di seguire, e cioè da un lato fermezza nei confronti del Governo egiziano e dall'altro richiesta di cooperazione. Dopo alcuni mesi iniziali in cui, ricordate, c'era stato purtroppo un proliferare di depistaggi e di situazioni complicate, ultimamente io ho visto dei segnali di cooperazione molto utili. Spero si sviluppino e il Governo lavorerà in questa direzione.